Ciao ragazzi, oggi video un po' polemico, in realtà il secondo video di giornata e non doveva nemmeno esserci, questo video però sentivo il bisogno di farlo perché ogni tanto ho proprio la necessità di mettermi qua davanti alla camera e raccontare alcune cose, buttare fuori alcuni pensieri che volenti o nolenti poi si creano nella tua mente e in questo momento in particolare mi sembra di rivivere la situazione che si era venuta a creare l'anno scorso con Cristiano Ronaldo e con Andrea Pirlo. Lo dice uno che a cinque giornate dal termine conferma che Andrea Pirlo lo avrebbe sostituito, lo avrebbe cambiato, lo avrebbe esonerato perché non poteva più rappresentare una sicurezza come guida tecnica della Juventus. Ma nel momento esatto in cui dico questa cosa, sottolineo anche come l'affetto e la stima nei confronti di Andrea Pirlo persona sarebbero rimasti invariati. E l'anno scorso io ricordo, le ricordo benissimo come se fosse ora, oggi, ieri, che si criticava aspramente Andrea Pirlo. Attenzione, la critica è giusta, non è quello il punto. Il punto è che si andava sulle offese. Stessa cosa per Ronaldo. Ronaldo l'anno scorso è stato etichettato come vero e proprio problema della Juventus, problema. Io lo ricordo, è quel periodo, non è passato tanto. Io ricordo il continuo dovervi dire, ragazzi, il Ronaldo non è un problema, bensì la soluzione. Se la Juve potrà ancora sperare nello scudetto all'epoca, quando ancora si era in corsa scudetto, o nella qualificazione Champions, dipenderà, dovrà aggrapparsi fortissima a Cristiano Ronaldo, valore aggiunto della Rosa. E pare quasi che non si sia imparato niente nel giro di pochi mesi, perché tuttora la situazione si è ripresentata con Dybala come problema della Juventus e come Allegri problema della Juventus. Ribadisco, la critica ci sta, la diversità di opinioni e di pensiero ci sta. Chi non critica oggi Allegri, chi non critica l'inizio di stagione di Allegri, o la gestione anche banalmente della situazione di classifica della Juventus, del momento Juventus di oggi, probabilmente perché d'Allegri è attratto forse fisicamente, non lo so, o perché si aggrappa a un'idea del passato, non è lucido, non è coerente. Chi non critica oggi, situazioni oggettivamente da criticare, si tiene veramente aggrappato al voler negare la realtà. Un po' come quelle persone che tuttora continuano a dirmi che probabilmente con due o tre acquisti saremmo livello da vincere la Champions. Per me queste persone vivono su Marte, lontanissime da quella che è la realtà dei fatti. Ci sta la diversità di pensiero, ci sta la diversità di opinione, è il sale della vita, è il sale del dialogo e della costruzione, del dialogo costruttivo, della critica costruttiva. Chi invece però non si basa su questo e continua a portare avanti una voglia di critica malata, di critica insana, di critica cancerogena, passatemi il termine e ve lo dico, non lo uso spesso perché io purtroppo ho dovuto passare delle perdite per quella cosa lì e quando uso questo termine è perché veramente arrivo un po' al limite. Ma quando si vuole andare sul personale non ce la faccio, non ce la faccio, perché penso che ci voglia rispetto. Come ho chiesto rispetto per Sarri, come ho chiesto rispetto per Pirlo, come ho chiesto rispetto per Ronaldo, ora sono qui a chiedere rispetto per Paolo Di Bala e Massimiliano Allegri. Perché non posso continuare a leggere schifo, merda, fai cagare e tutte queste cose attribuite sia all'uno che all'altro. Ribadisco, è giustissimo rimanere concentrati e sottolineare come ad oggi le cose non stiano andando bene, ma ci vuole rispetto per chi la storia l'ha scritta e anche per Alexandro e sono il primo che si è incazzato e ha detto che cazzo fai, non più a livello, non penso che ci possa essere futuro la Juventus per te e queste cose le accetto per qualcuno che me le dice su Di Bala e su Allegri. Nessun problema, tutti abbiamo una posizione, tutti possiamo volere dentro o fuori dalla Juventus un determinato tesserato della Juve, ma non mi sono mai permesso di venire qui davanti alla telecamera e dire, Alexandro fai cagare al cazzo, vattene e vergognati. Ci vuole rispetto, rispetto per chi lavora per la Juventus, per chi è stato professionista per la Juve, per chi ha dato tanto per la Juve. E credo che sia Allegri, che Di Bala, che Alexandro, ma lo stesso Agnelli, lo stesso Agnelli, che ad oggi sta sbagliando, lo stesso discorso di Allegri prima, chi non critica oggi è la dirigenza. Eh ragazzi, ci sono le fette di salame davanti agli occhi, è più una volontà di voler far vedere che è impossibile giustificare i tanti errori continuativi, ravvicinati, della dirigenza della Juventus negli ultimi anni. È impossibile. Vuol dire farsi andare bene tutto. Non si può far andare bene tutto. Ma bisogna criticare nei limiti. Perché non posso accettare, non posso accettare la violenza, la maleducazione, il mancato rispetto. Perché è vero che siamo su internet, è vero che tutti abbiamo diritto di parola, ma ci sono dei paletti anche qui. Non dico nemmeno che probabilmente nella vita reale non si andrebbero a dire certe cose, per quanto sarebbero sicuramente più contenute e meno diffuse. Perché so per certo che ci sono persone che il rispetto non ce l'hanno nemmeno nella vita reale. E sono persone che probabilmente devono anche vergognarsi o rivedere un attimo le proprie priorità nella vita. Come io accetto il fischio allo stadio, accetto il tifoso che fischia il calciatore, che fischia l'allenatore, che fischia il dirigente, perché il tifoso ha il dovere di far capire che cosa gli piace e che cosa non gli piace. Ma poi penso che anche abbia il dovere di accettare e di capire. In questo momento stiamo andando male. Io sono anche dell'idea che per vincere debba funzionare tutto, correttamente, dalla dirigenza, partendo dalla dirigenza, che sceglie l'allenatore, che fa un focus principale sui calciatori. È un processo che deve funzionare interamente. E quando noi abbiamo vinto, nei tanti anni che abbiamo vinto, queste tre cose funzionavano tutte e tre insieme. Non è un caso che al primo momento in cui va a scricchiolare la dirigenza nel corso di nove anni, leggi Addio di Marotta, tutto questo teatrino molla. Perché poi si mette in discussione l'allenatore, dopo aver distrutto la dirigenza si è messo in discussione l'allenatore, che anche lì ci poteva stare, ma poi le scelte non sono state di livello perché la dirigenza probabilmente era diventata inadeguata per quelli che erano i livelli raggiunti dalla Juventus. E mancando l'allenatore, la fiducia negli allenatori, perché in Sarri e Pirlo è mancata la fiducia negli allenatori, è venuto a mancare anche il lato tecnico, di squadra, di campo, di giocatori. E quindi per ricostruire tutto ciò bisogna ripartire da una dirigenza forte. Io non so se questa dirigenza è forte oppure no. Io so che ha sbagliato tantissimo negli ultimi anni e che probabilmente un nuovo fallimento non sarebbe più giustificabile praticamente da nessuno dei tifosi della Juve. Perché si può sbagliare sì, ma non si può perseverare. Ma il rispetto non deve mai mancare. Io ricordo anche che il primo anno di Marotta Paratici, prima dei nove anni di successi, ci ha portato a un settimo posto. Quindi faccio un po' fatica a valutare oggi. Se valuto per quello che ho visto oggi dalla nuova dirigenza, hai speso tre mesi per fare la trattativa a Locatelli, per poi prenderti Ken con obbligo di riscatto o semi-obbligo, perché bisognerà vedere quali sono gli obiettivi da raggiungere. E Caio, che non è pronto, e non so quanto sia stato concordato con Allegri questo acquisto, non ne ho la più pallida idea. Proprio non ne ho la più pallida idea col senno di poi. E a gennaio ancora non ne hai fatto niente. Dopo l'infortunio grave di Chiesa e della mentele sul mercato che ho comunque ribadito anche nel video di oggi. Quindi io due anni gli ridò. Ma proprio perché si parla tanto di mancanza di progettazione della Juventus, io mi chiedo, come si può progettare se siamo sempre a mettere in discussione tutti gli allenatori? Perché esonerare Sarri dopo aver scelto Sarri dopo un anno è un errore. Esonerare Pirlo dopo aver scelto Pirlo per un anno è un errore. Sono errori di valutazione all'inizio ed errori di valutazione alla fine. Poi è ovvio che se ti rendi conto che non puoi più proseguire con una determinata persona, ci sta a cambiarlo e questo deve avvenire anche con Allegri. È un ragionamento che deve avvenire anche con Allegri. Però poi l'errore sta nel momento in cui gli scegli. Perché io non mi stancherò mai di dirlo che non avrei mai ripreso Massimiliano Allegri all'inizio di questa annata. Mai. Perché non era l'allenatore che secondo me serviva al progetto Juventus di ricostruzione. Perché è facile poi dire, abbiamo detto prima, no? Marotta. Marotta nel momento che si è andato a SISGRETO alla Juventus. Ma Marotta quando è che è stato bravo? E quando è che Marotta è bravo oggi all'Inter? Quando affronta progetti in cui ha la possibilità di selezionare giocatori pronti subito. Marotta avrebbe fatto fatica probabilmente in questa Juve. Farebbe fatica in questa Juve che vuol guardare al futuro. E gli ultimi acquisti della Juventus vanno in questa direzione. Non possiamo negarlo. Perché le ultime due campagne acquisti della Juve sono andate esattamente in questa direzione. Quindi anche questa narrativa che la Juventus non crede sui giovani a me non fa piacere. Perché la Juventus lo sta facendo. Se poi mi dite che non credono i giovani il vivaio, questo è un altro discorso, un altro problema enorme. Questo secondo me è il più grande problema della Juventus da 15 anni a questa parte. Perché l'unico vero grande calciatore uscito al vivaio della Juve negli ultimi 15 anni è Claudio Marchisio. E non c'entra niente agli allenatori. Perché negli ultimi 15 anni ci sono stati tutti. Quello è un problema. Grosso. Enorme. Però se non ripartiamo da compattarci a partire dalla dirigenza che deve credere fortemente nell'allenatore e ad oggi questa cosa avviene perché questa dirigenza crede in Massimiliano Allegri e sponsorizzerà Massimiliano Allegri e il fatto che abbia 4 anni di contratto questo lo dimostra che poi se è giusto o sbagliato questo è un altro discorso. Ma questa dirigenza crede in Massimiliano Allegri. E allora bisogna dare almeno secondo me due anni per capire almeno due anni perché poi non è che puoi continuare all'infinito. E ribadisco che se salta la testa di Allegri io voglio dei cambi anche in dirigenza perché è l'ennesimo errore di valutazione. Dei cambi importanti in dirigenza ma do il beneficio del dubbio per due stagioni. Io non so come finirà questa stagione però io voglio arrivare al punto in cui la dirigenza crede nel allenatore e l'allenatore crede nei giocatori. Mi va a motivare i giocatori. Secondo me oggi ci manca questo step. Allegri non crede tanto in questa squadra ma ancora una volta questa non è la squadra costretta per Massimiliano Allegri perché è la squadra che è stata data in mano ad Andrea Pirlo senza Cristiano Ronaldo più Locatelli. Ed è facile oggi fare il confronto di Re però Pirlo aveva più punti di Allegri l'anno scorso. Sì. Ma non possiamo mettere la testa sotto la sabba ignorando che oggi manca Cristiano Ronaldo. Perché metti Cristiano Ronaldo in questa Juve e io sono sicuro che probabilmente non sei primo in campionato questo non ve lo voglio dire ma sei vicino a quelle zone lì. Ci navighi intorno perché tante partite anche giocate male o nel quale hai avuto pochissime occasioni da gol la zampata del fenomeno del campione ti è mancata. Cosa che ad oggi non è Paolo Di Bala. Ad oggi Paolo Di Bala è il giocatore in più di questa Juve anche senza Federico Chiesa ma non si avvicina nemmeno alle stigmate del fenomeno. Ma comunque ci vuole rispetto per Paolo Di Bala. E credo che forse la dirigenza in questo caso non stia usando rispetto per Di Bala. poi bisogna vedere com'è andata veramente e che non sia davvero Di Bala che non sta usando rispetto per la dirigenza ma questo non lo sappiamo. E quindi io dico criticare sì certo assolutamente ma con rispetto e se parliamo di continuità tattica o continuità di un progetto o valorizzazione di un progetto cercare di andare sul lungo non chiedere cambiamenti ogni tre per due o comunque farlo perché è diritto sì ma sempre con rispetto. sempre con rispetto e ad oggi a tanti dei tifosi juventini manca questo manca il rispetto ma lo dico banalmente anche nei miei confronti se fate un giro sotto i video ma fate un giro sotto i video di qualsiasi dei miei colleghi su YouTube juventini e non che adesso io ho detto tifo juventino ma è quello che che vedo io ma sicuramente avviene anche dalle altre parti c'è proprio questa mancanza di rispetto nei confronti delle persone e io voglio capire da che cosa è data perché non ci credo che l'utente medio sia maleducato a priori che lo voglia fare perché probabilmente non c'è un rischio di percussione non lo so non ne ho idea ma non credo che sia questo il modo giusto di affrontare le situazioni dall'altra parte dico alla dirigenza a quelli che in questo momento comanda la Juventus svegliatevi perché questa squadra negli anni è stata decimata decimata a livello tecnico abbiamo buttato via un gap incredibile e non possiamo nasconderci dietro la scusa del covid perché il covid ha si impattato ha influito ma il covid l'hanno avuto tutti e ci sono delle squadre che sono andate su e delle squadre che sono andate giù noi siamo quelle che è andata giù più di tutte quindi ricominciare a lavorare in un certo modo cercando di capire che cosa manca in dirigenza perché una volta funzionava e ora non funziona più se si vuole fare questo tipo di progetto abbiamo intanto scelto l'allenatore giusto risposta mia secondo me no però dare la possibilità a questo allenatore di lavorare comunque in questo progetto o comunque cambiarlo questo progetto a un certo punto perché il progetto non lo può decidere la società o almeno sì però poi lo ribalti sull'allenatore e per questo allenatore non mi stancherò mai di ridirlo e di ripeterlo di ribadirlo ma te lo dice lui in tutte le conferenze stampa servono dei giocatori più pronti Allegri continua a dirti che questa Juventus a differenza delle altre sue Juventus ha giocatori meno di esperienza tradotto giocatori meno pronti rispetto a quelli che aveva una volta quindi dove vogliamo andare? se vogliamo proseguire questo filo rosso che unisce dirigenza allenatore deve unirsi anche questo filo rosso tra allenatore e giocatori quindi chiedere ad Allegri chi sono quelli in squadra che ritiene indispensabili? Tizio, Caio, Semprogno e Pirino chi sono quelli che sono in uscita? Pinco Panko e Panko Panko benissimo chi sono quelli che invece vuoi comprare? Zabdo, Smoltres e Articuno e andare a seconda delle risposte dell'allenatore al quale devi dare fiducia perché senza fiducia interpersonale tra le parti si va poco lontano bisogna ricompattare il gruppo e ricreare quella sorta di volersi buttare nel fuoco per difendere il proprio allenatore per difendere la propria dirigenza per difendere i propri giocatori e oggi questo manca io capisco il tifoso preoccupato io capisco il tifoso che critica io sono il primo tifoso che si mette qua e analizza la situazione e porta delle critiche che spero possano essere costruttive però bisogna ricominciare a remare nella stessa direzione perché il tifoso deve rispettare sì ma dall'altra parte bisogna lavorare bene quindi è un richiamo un po' all'attenzione generale perché in questo periodo in cui le cose vanno meno bene non mi piace tanto quello che leggo dall'altra parte invece capisco la mancanza di pazienza dopo degli anni in cui si è lavorato con il puntini puntini ci vediamo presto ciao ragazzi un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti